Lo dico anche per voi se state facendo la riferimento di ragionanza, fate la riferimento di tutti, non è che io ripeto non è polemica, è semplicemente lavorare meglio tutti quanti per l'interesse della nostra città. Dicevo appunto fantasma, e saprei parlare di quanto si potrebbe risolvere i problemi dell'azienda e dello scuolo pubblico. Pagalmente facendo le inizie preferenziali, sincronizzate il messaggio, vediamo che con 6 semanturini ci sarebbero immaginibili effetti positivi. Cosa che però non si capisce perché non si faccia. Io capisco che ha scritto nel DGQ anche, se in maniera puntata avrebbe credo che abbastanza il tema generale di rafferimento quale per fare una inizia preferenziale. Abbiamo visto in questa addiritturazione quando si trattava di altri problemi di reti, presunti tali come la caratterizzazione, di reti quali i regali, lo ha fatto in 4 e quadrotto. di aspettare il DGQ per fare 50 km di manuzione preferenziale, ci sembra un po' di poter affrontare all'artice di problemi. per il DGQ per fare 50 km di manuzione. Mi dicevo, dotare l'artica di una fronte moderna, efficiente, ha detto che è importante anche per l'immagine della città. anche qui facciamo altro come le città europee, in vista di sbagliati anni fa, le aziende di trasporto dividenziano il fatto che hanno un mezzo liquido, un costo che abitano, un costo che reggono, perché vuol dire che quella di distrazione è sensibile ai problemi ambientali. Quindi a cascata, che lo rimanisco, avere un trasporto pubblico efficiente e il biglietto da visita di qualsiasi città, ovviamente se il mezzo è sensibile rispetto all'ambiente se la rimangere in guida, se la rimangere in costa, se la rimangere in turista, magari non c'è. Ma se devo scegliere tra visitare Roma e non so quale altra carica europea, magari la Roma anche perché tu nella città la so particolarmente attenta alla pietra, anche perché quella città non riesco di intossicarti se devo passeggiare per godere le sue bellezze. citturale. Quindi vediamo come poi con essi andiamo nella comunità ci siamo tanti a te, il turismo, il commercio, la cultura e tante altre cose. Perché non è un caso nella comunità con l'alleggio. non è un caso nella comunità, si è sancita anche nella nostra carta costituzionale che dice che qualsiasi cittadino nel libro di Forzi all'interno del territorio. perché c'è un po' di dare a questa aula una frustrazione che si ha quando non ci si riesce a spostare, quando si aspetta per mezz'ora con voglio del Romagnino che arriva già a piedi, ma non si aspetta per mezz'ora l'alto in questa situazione perché non c'è neanche una benzina. non c'è neanche un po' di dare a piedi, non c'è neanche un po' di dare a piedi, non c'è neanche un po' di dare a piedi. perché diventa il suo indietro questo servizio? perché le risorse pubbliche non sono orientate in maniera efficiente? perché si spendono 900 giorni per fare un chilometro di metro c e poi quando si sistema la linea P che è al collasso si interviene in maniera lunga lunga come accade adesso sulla linea che sarà chiusa per molti mesi in maniera più 30 ma questo si chiede i cittadini per questo il cittadino è che si tratta dal lavoro all'unità saprò se puoi fare con bellissime campagne elettorali con tanti ricerchiati, manchetti, le false molesse e l'angene a destra e a sinistra e poi le indicazioni di cittadini fino ad una successiva pubblicazione elettorale perché per questo viene il corretto perché la gente è tutta lontana dalla politica e poi si creano i frondelli che conosciamo tutti io anche ghiendo e colore della professione per fare banale streaming e banale tanti hasteniti quindi qual è il messaggio che si buona alle cittadini romani e ricordo fai la vita in situazione di Italia per ritornare un po' a Pum a questo potere soltanto la comunità dicevo che sono una situazione ho avuto la fortuna di visitare le riveste e le riviste scorsi la rivesta di un po' di notte la rivesta di notte rossa perché questo dovrebbero fare in situazione di notte andare a vedere direttamente quali sono i problemi rendersi conto di come funziona la complessa macchina nella città di Roma è appunto per il risultato di risultato di risultati che è stato raccontato per la sede che è un'altra che è così l'autobus che non escono le riveste perché mancano di mezzo di campo perché proprio andano esaurito il ciclo di vita e io tra l'altro questo giorno per funzionare l'assessore dicevo che questo rambenio ce lo confermerà che è prevista nel 2016 l'alliego di nuovi mezzi questa sarebbe certamente una buona notizia ma significherebbe che per triana di una legge di una secci quando nel di una legge poi mesi alla campagna di Natale in Settacola non lo studiamo e non lo studiamo magari più per motivi diciamo così di amurigli che altro è un post-off vediamo in questo le armi come dice per lì costantinato di un post-off abbiamo diventato la foto di Atac perché passato Atac ha nello avuto di Anna costantemente in un certo pugno il suo marco delzio così la mani vai mai come si dice un'arco a lo gioco quella che è liquida di un'azienda che risponda che non investe nel suo business che non investe in altri che non investe risorse assumendo i propri autisti i propri macchinisti anche in quest'anno perché è importante più forte e come i propri autisti e i macchinisti hanno una pensione e non si sa bene cosa riuscirà a rimpiazzare se un'azienda non investe in queste due cose non investe in valutazione vuol dire che si vuole portare le volte che si sanno gestire le cose o che questa azienda si vuole portare a presa verso per poi magari vedete le parti più abitibili il lasciare ha indicato tutto quanto io ricordo le cose di organizzazioni che ho denunciato in un porto con interrogazioni comuni agli aguardanti la situazione è molto delicata in cui sono le mie esercitabili arrivati in piedi con un consorzio privato che si è circa circa il 20% dei chilometri nella città di nuova tante volte ne aiutiamo dicendo di ho fatto anche tante commissioni sul tema tiriamo questo di piedi entrava in rivista perché mancava il gasolio fatti come questo non sono accettabili in una città come Roma ma che quindi bisognerebbe capire A perché e che so che responsabili dell'aver gestito male le risorse che c'erano in passato e B perché ad oggi non si stia facendo abbastanza per accendere il problema io ho detto con l'attenzione in vista dell'articità d'oggi su un quotidiano qualche giorno fa l'articità d'oggi ci diceva che mi fa tutto bene i risultati finanziari di Africa sono in periodo di più contato ma ricordiamoci anche qui la missione di Africa con la regra e i rinanci meglio non solo quella per i rinanci che si sospettano ma anche quella di far bilanciare lezze perché se no non ci vuole nulla ma far girare così proprio bilanci di Africa taglio di inserire taglio di inserire lavoratori taglio di inserisci e bilanci di Africa che fa in posizione con la filarete ma rispetto al servizio offerto anche qui mi ricordo qualche anno fa nella città europea che i cittadini poteranno portare col servizio di una forza via internet via telefoni di SPS via telefoni di cosa cosa ad oggi questo non è ieri poi ci portiamo io l'altro ieri ho preso la metro 5 un pezzetto di metropolitana che si comprende una metro 5 un diavolo una metropolitana che è stata bella ma non si sa dove arriverà come arriverà quando ci arrivarà e con quali risorse ci arriverà una metropolitana che un diavolo c'è l'altro di differenza una metropolitana che quando avrà la piazza dopo fuori a San Giovanni per tornare indietro per tre stazioni sotto lo stesso unitario ovviamente una canzata per fare con l'ina che sente qua la lente più o meno un'anima che ha pensato a un posto di assaggio ma come dicevo con il mio nome su un uomo e chiedo magari all'assessore di informarsi ho visto che uno degli ascensori della stazione centocente la metro c'era di manutenzione ma me la stazione centocente sta aperta il mio dato di avere non è possibile che dopo l'anima scensore si è già in manutenzione come voglio ricordare sul tema la metro c aspetta un altro che così dico del distiletto di diversi centri tra la partita e i treni per un uomo per una maniera con un passeggero un paro che è un mondo complicato salire sul treno e c'è un'istiretica la macchina è più bassa rispetto a il livello di treno per un disarque che è praticamente impossibile allora io ho definito come impossibile di un'opera che si è acquistata in dubbio di quanto è venuta l'inizio come sia possibile di un'opera che c'è stato consegnato il dubbio dei treni perché ricordo che all'inizio la consegnata di San Giovanni avverrà avverrà forse a dicembre 2016 quindi nei 5 anni che è visto la provincia del 2016 è passato 10 è passato 10 una possibilità che si sia riusciti anche a sbagliare a fare il vestire del genere tra tre panchina impedendo il fatto di poter soffronire di un diritto fondamentale di quello alfascopo continuo episodi simplici su altre tracche ci sono stati ricordati da chi ieri con miscione militare quando una città metatelica acquisite una città che va a futuro vuol dire che è una città che deve essere simile mezzo di atto come vedete come vedete colleghi che lavorano molto noi abbiamo presentato molti atti molti movimenti per liberare il fai degli indirizzi a questo piano città il trafico urbano rendendo un altro vicino alle esigenze dei cittadini che puntualmente vengono in via arrivò un po' più avanti non potete gustare un po' di un altro esempio di Obama è nato un grande valentino che abbiamo fatto perché è una penalizzazione stavolta non solo qualche cinista un po' troppo sensibile per il stato avranno queste idee ma chiesto anche dai residenti chiesto anche di depende per c'è questa amministrazione tra la nazionale maria di campagna elettorale senza sempre fatta contatrice di trasparenza dei principi di condivisione dei principi di democrazia può essere provocata in relazionativa del genere che invece deve essere valorizzata deve essere coltivata perché significa che finalmente è qualcosa anche produttore pubblica Roma sta cambiando su dei detti che magari fino a qualche anno fa abbiamo anche perché come vedete è un piccolo della vita una volta a parlare di l'unità o per esempio vogliamo che è una grande che può sentire le cittadine per la sua sensibilità attenzione ripeto io sono felice che l'atmosfera che si respira in quest'aula ricorda l'atmosfera che si respira quando facevo quando fetticavo dicevo quella monaca vuol dire quella si è era un'atmosfera molto misteria rispetto a quella che si respira in quest'aula ma è positivo perché può dire che fa tutto bene può dire questa ci sarà un problema e quindi ci possiamo permettere di stare bene se voi lo tenete giusto perché è carità non è questo diciamo tutto del mondo per concludere questo del giorno vi è anche di impegnare il senso raggiunta a far sì che ha che possa acquistare i segnali in maniera fermata in maniera chiara dopo l'inizio di lo spot perché c'è la campagna elettorale del nostro di giubileo chiede di provare programmando la flotta demenziale prestando particolare attenzione all'ambiente per esempio le tecnologie elettriche le tecnologie elettriche ma la metà l'ambiente recentemente in questa manifestazione l'italia porti di l'italia l'italia che viaggiavano nel centro città e che potevano andare a compensare per le lezioni un po' più difficili ma l'aumento della transversia e l'aumento della sosta da rifare altrimenti lasciamo i cittadini a spostarsi in maniera sostenibile del centro storico invece anche di l'indicato di con i strani consigliere che si chiudere grazie